Questa è un'edizione speciale della fiera dell'agricoltura che abbiamo voluto fortemente. È una fiera della ripartenza, è una fiera delle novità in senso assoluto. Tutto quello che era stato fatto fino adesso, prima Covid, è un qualcosa di diverso che ci dobbiamo dimenticare. Adesso affrontiamo una realtà diversa, faremo una fiera in una data un po' diversa dal solito, ma molto legata alla tradizione proprio storica. Nel 1300 le fiere di Lanciano si svolgevano a giugno e a settembre, quindi fare il 3, il 4, il 5 settembre 2021. È una fiera in cui gli espositori hanno aderito e aderiranno in questo periodo e stanno aderendo con molto entusiasmo, oltre con un numero quasi pari alle vecchie e alle altre edizioni. È una fiera che sarà una delle prime fiere nazionali che riparte a livello di pubblico in presenza. Il pubblico in questa occasione eccezionalmente appunto non pagheranno neanche il biglietto. Naturalmente noi come fiera siamo già impegnati a studiare con i protocolli sanitari tutti i sistemi di sicurezza, sia della salute, del distanziamento. Soprattutto dobbiamo fare a meno magari di un qualche convegno, proprio per evitare assembramenti che non possono essere gestiti. Però per le altre cose siamo pronti a tutti, a tutto, quindi chi verrà in fiera sarà nella massima sicurezza, con un numero limitato e scaglionato, strada, come si dice, a seconda degli ingressi, il numero degli ingressi.